Presidente, fatto per la ricostruzione e per lo sviluppo delle marche, su quali punti e quali sono gli elementi centrali per poter avviare questo processo? La cosa più importante intanto è stato sottoscritto da parte di tutte le categorie economiche, l'università, la conferenza episcopale marchigiana, cioè una sottoscrizione, una condivisione ampia da parte di tutti i soggetti che hanno a vario titolo lavorato sia ovviamente dentro il tema del terremoto ma anche più in generale. Il patto dello sviluppo e ricostruzione perché sono due percorsi inscindibili, non si può ricostruire se non si creano le premesse di una crescita economica e di uno sviluppo. Il percorso che ha formato i titoli di questa attività che riguardano il welfare, che riguardano l'agricoltura, che riguardano lo sviluppo economico del nostro territorio, che riguardano forme di incentivazione sotto il profilo di sgravi fiscali, sono tutti quegli elementi nati da una doppia ricerca, uno dal basso e uno dall'alto, fatto dal Consiglio regionale e dall'Aggiunta e messi a sintesi da Istau. Un pacchetto di progetti che appunto mira a rilanciare questa parte del territorio regionale, duramente colpita dal terremoto, che in termini di sviluppo ha bisogno di leve necessarie per poter ripartire. Quali sono le caratteristiche principali rispetto proprio all'area della ricostruzione? La forma conclusiva è una forma sintetica utile sia a rendere espliciti quelli che sono i contenuti, ma anche ad arrivare a sottoscrivere due percorsi di accordo di carattere nazionale e europeo. Uno con il governo, come è stato fatto già all'Aquila e nell'Emilia, dove una parte dei fondi destinati a ricostruzione sono andati a termini di sviluppo. Nuove infrastrutture, sgravi fiscali, zone franche, incentivi alle imprese che vogliono crescere e investire, settori strategici come il turismo e la cultura per il rilancio del territorio. Cioè tutte attività che si possono tradurre in un accordo programma quadro, in uno strumento operativo, con risorse statali aggiuntive che vanno a integrare quelle europee già destinate sullo stesso capitolo e a contribuire meglio rilevante allo sviluppo. Un passaggio di livello europeo per avere intanto, chiamiamolo, delle liberatorie rispetto al fatto che dare un contributo a un'impresa deve avere un'approvazione da parte della comunità europea, così come un incentivo sotto forma fiscale, perché si capisca che qui parliamo di rilancio di un territorio e non di una concorrenza sleale rispetto a un'altra parte d'Italia, ma ci sono passaggi necessari per dare poi sostanza a questo progetto. Per noi il terremoto è un terzo del territorio regionale, quindi è evidente che tutto quello che verrà fatto lì dentro sarà di impulso e di slancio per l'intera economia regionale. Noi chiediamo maggior coinvolgimento anche delle imprese locali sulla ricostruzione, intendiamo per locali regionali dentro la ricostruzione, in tutti quei momenti che in termini di rilancio economico permetteranno attraverso le imprese di avere lavoro, occupazione e soprattutto creare quelle condizioni che permettono ai cittadini di tornare nella loro casa, tornare nella loro realtà. Spesso parliamo di aree interne che già erano sottoposte a spopolamento prima del terremoto e creare queste condizioni è un fatto essenziale, significa dare lavoro, dare occupazione e dare un futuro a chi ritorna alla propria casa.